Ciao. Ciao, papà. Wow. Ricordatevi sempre che qui al Taj l'ospite è sacro. Al lavoro! Sembra che ci sia stato un attentato alla stazione ferroviaria. Madame, questo è il Taj Hotel. Siamo al sicuro qui. Che succede? Fate rientrare! Ci sono dei terroristi là fuori e siamo in pericolo. Spegnete le luci! Sotto i tavoli! I terroristi hanno messo sotto assedio il Taj Hotel. Circa mille ospiti e più di 500 persone dello staff sono rimasti intrappolati all'interno. Dobbiamo radunare tutti quelli che possiamo. Molti di voi hanno una famiglia a casa. Non è una vergogna andarsene. Lavoro qui da 35 anni. È questa la mia casa. Tu hai una famiglia? Sì. E spero di restare vivo per loro. Nessuno verrà a salvarci. Prendiamo le scale sul retro e usciamo dalle porte di servizio. Se ci sentono, moriremo. Correremo il rischio. Sono spaventata. Tutti lo siamo. Ma per salvarci dobbiamo restare uniti. Via! 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 Via!